Alla chiusura delle ali diversi concorrenti su di una linea, Project Model e Perfect Model tengono la posizione, rimane a largo Putin dice l'attacca a largo di tutti, Perfect Lou LF, Perfect Lou a chiedere strada a Perfect Model, rompe Perfect Lou e Perfect Model è leader dopo 200 metri in 14 e mezzo. Si è sistemato secondo Putin dice che precede Project Model e Pink Moon. 29 e mezzo il quarto iniziale, andatura sollecita dell'allievo di Giuseppe Trinchillo, 8 euro e 11 la quota del vincente. Sicuramente la corsa sta favorendo Putin dice lo che segue dalla seconda posizione, 44 e mezzo i 600. A largo si fa vedere Peco Smail con ischiena Parnasso Font, poi lungo la corda Pink Moon con ischiena Pierre Griff. 1 e 1 scarsi, il giro di pista, Perfect Model completa il chilometro in 1,16 e 6, muove Putin dice lo, si trascina Project Model, poi lo scatto a largo di Parnasso Font, più a largo porti LB. 3 quarti di miglio in 1,31 e mezzo, scende in seconda posizione Project Model dietro Putin dice lo, poi Parnasso Font a precedere Porsi LB e Pink Moon. con retta d'arrivo con Parnasso Font che avvicina Putin dice lo, di dentro Project Model, poi Porsi LB, battute conclusive Putin dice lo, Project Model, Alters, il numero 9, Parnasso Font. Doppio a seguire dopo il successo dell'altro giorno per Putin dice lo, che chiude all'ottima media di 1,15 e 4.